Dopo la prova dello scorso anno, dopo alcuni anni di assenza, torniamo quest'anno con la festa dell'unità di Vallefoglia, 1, 2, 3 settembre nel parco Guido Volponi adiacente alla chiesa di Montecchio. Siamo molto orgogliosi del programma che abbiamo organizzato, dalle orchestre al ristorante che abbiamo allestito e soprattutto, visto che è una festa di partito, il programma politico perché noi abbiamo avuto la disponibilità molto importante di Stefano Bonaccini che oltre a essere il presidente nazionale del partito è il presidente dell'Emilia Romagna, del sindaco di Firenze, Dario Nardella e dell'europarlamentare Camilla Lauretti, oltre a tutti gli altri dibattiti che abbiamo spiegato durante la conferenza stampa dal dibattito sulla sanità regionale dopo tre anni di giunta a Quaroli, al dibattito sulla scuola e l'università e a quello sui cambiamenti climatici anche alla luce degli ultimi avvenimenti legati all'alluvione di maggio. Quindi siamo veramente orgogliosi di quello che abbiamo preparato, speriamo che questi tre giorni vadano bene, anche il lavoro di comunicazione e volantinaggio sta andando forte in questi giorni. Fare una festa è un impegno di volontari, di militanti, di persone per bene che pensano che una festa democratica come quella dell'Unità e Popolare possa essere un momento di incontro, di discussione sui temi del lavoro, sui temi della sanità, sul futuro di questo paese, sul futuro delle Marche, sul futuro della città di Vallefoglia che come si sa è un centro importante, fortissima crescita, quindi una festa nel cuore di quest'area di oltre 50.000 abitanti e una delle 4-5 più importanti della provincia di Piso Urbino e delle Marche è quanto mai utile e necessaria, necessaria non solo per gli elettori di centro-sinistra ma necessaria per tutti i cittadini perché è un momento comunque in cui si sta insieme, si mangia bene, si balla, ci si diverte e poi si discute anche dei problemi che questa comunità ha, i problemi dell'occupazione, del lavoro, i problemi della tutela, della salute, del funzionamento dei servizi sociosanitari di questa provincia, di questa regione. Colgo l'occasione per invitare tutta la cittadinanza, a prescindere dall'appartenenza politica, non solo di Vallefoglia ma anche dei comuni limitrofi, da appesare tutta questa zona di Pian del Buscolo, a questo grandissimo evento popolare.